Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Roblox Oggi siamo su una mappa veramente bellissima Allora, è tipo una super hero, sotto nei commenti vi scrivo come si chiama E voi potete scegliere i vostri super eroi preferiti Prendiamo Superman Ok, adesso... Oh, cattivo E dovete scontrarvi contro gli altri Così, ta, ta Adesso vi faccio vedere Allora, io ho appena preso Superman Che cosa posso fare con essi? Posso Tirare i pugni Pugni Ghiacciare Occhi laser E te... E adesso direi di andare a distruggere Ogni volta che morirete potrete cambiare Mamma mia Distrutto Mamma mia L'ho disintegrato Spade Spade me la porto Allora, però questo se ne fa da... Poverino, no, mi dispiace 109 kg Ma da quanto giocano Ecco Oh, mi ha ucciso Deadpool Maledizione Prendiamo Spider-Man Prendiamo 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 come è l'edizione No, non è vero, spero. Vero. Vero. mi hanno distrutto da dietro ma questo deadbolt sarà maledetto io adesso divento un cattivo bello goblin oh posso volare mamma mia mi ho portato tutta la vita ok solo al volo però valedetti becca di pesto 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 Grazie a tutti No, ci siamo avuti uccisi Questo non ci voleva Ecco, proviamolo Ciao, Gabriel Ai, bravo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti